buongiorno stamattina Gabriele mi ha detto di vedere questo mi ha suggerito di vedere questo documentario chiamato infodemic io ho scaricato lo script di questo documentario per analizzarlo ma dopo le poche prime righe ho realizzato che non c'è bisogno di guardare questo documentario per debucarlo con questo video voglio farvi capire che la censura non esiste oggi ragazzi come vediamo qui il video è stato caricato due giorni fa su youtube è già quasi 300 mila views i miei video dopo due giorni non arrivano a più di 50 60 views eppure io dedico tempo a fare questi video ne faccio quasi uno al giorno non è facile richiedono editing e soprattutto testa prima di cominciare l'editing eppure questo mio canale è qui su youtube libero non censurato capito cosa ha detto il mio canale non è censurato eppure la gente preferisce andare a vedere infodemic sembrerebbe che la censura sia nella testa della pegora vivi scrive prestata la verità ma la pegora non la vuole vedere questa è una mucca che viene tagliata viva ma non sente niente perché indossa gli occhiali virtuali sembrerebbe che ci sia un meccanismo nel cervello che ci impedisce di vedere le cose brutte effettivamente per fare una cosa fatta bene richiede più energia da parte del cervello e quindi per questo il cervello decide di scegliere la strada più semplice un po come con il mcdonald e il cibo spazzatura è ovunque questo perché la pegora la vuole la fa sentire bene come questi documentari qua che le dicono che va tutto bene vai a prenderti il you know what e andrà tutto bene la sindrome di stoccolma lo spiega benissimo e tutti vogliamo dipingere la realtà un po in modo più bello no io pure quando ho fatto questo viaggio con americo ho sempre questa mania di creare un video dove racconto tutto in modo bellissimo ma la realtà era ben diverso ovviamente pensare positivo il canale di marcelminga è una rottura di palli invece lui ha un ego grande come una montagna io vedo i suoi video però non lì che non divido mai perché lui è uno sfigata fa video pallosi ci dice che dobbiamo alzare il culo e combattere io invece voglio combattere solo con un click va tutto bene diretti